Un cratere al posto della strada. Lo scorso 20 settembre si presentava così via Molini, arteria stradale strategica di Villabetti nel municipio di Monte Ciccardo. A inizio 2023 uno smottamento aveva infatti fatto franare l'intera sede stradale nell'area agricola sottostante creando una voragine allargatasi di mese in mese e particolarmente aggravatasi in seguito all'alluvione di maggio. Frana che ha tagliato in due la frazione con conseguenti disagi a residenti e viabilità. Riperite le risorse comunali proprio nella seconda metà di settembre sono partiti lavori di ricostruzione della strada realizzata dalla ditta Palazzi e terminata in meno di due mesi. È stato purtroppo un fatto non previsto che ha spaccato Villabetti proprio a metà rendendo obbligata un'uscita più complicata da Villabetti. Questa è un'opera che restituisce sicuramente un traffico più fruibile a tutti. In pochi mesi siamo riusciti a ricostruire l'impalcato stradale, palli di fondazione, opere di zootecniche di sostegno e riapertura della strada. Da subito ci siamo impegnati come amministrazione comunale prima a trovare le risorse insieme all'assessore al bilancio, 185 mila euro stanziati per ricostruire una parte di strada come giustamente dicevi. Lavori che sono partiti a settembre dopo un'indagine e un'analisi anche del terreno importante perché abbiamo visto come rispetto ai primi movimenti franosi questa parte di strada ha continuato a cedere anche successivamente e di conseguenza siamo intervenuti nel modo tecnicamente più corretto con dei pali, con la ricostruzione di fatto di una parte di strada per 20-25 metri di lunghezza. Un intervento che ci eravamo impegnati a concludere entro l'anno perché sappiamo anche quanto poi nel mese di gennaio e febbraio il rischio delle temperature particolarmente fredde potesse causare anche che la strada ghiacciasse e quindi anche dei pericoli per la viabilità. Un impegno che abbiamo preso a settembre siamo partiti con i lavori grazie a un buon lavoro di squadra grazie anche alla ditta palazzi che ha lavorato in modo da avere greggio siamo arrivati a concluderla prima di quello che era la fine prevista al cronoprogramma. Proprio via Molini fu visitata di persona dalla ricognizione dei tecnici della protezione civile nazionale per la valutazione dei ristori ai danni dell'evento alluvionale di maggio. Sembra che ci sia stato un riconoscimento rispetto alle risorse stanziate per i danni causati dall'alluvione e quindi a questo punto vorrebbe dire che avremo delle risorse quando arriveranno da poter recuperare l'intervento realizzato.